Vendola oggi ha un altro scalpo attaccato alla cintola. E' il commento del sindaco di Bari e presidente pugliese del PD Michele Emiliano che riflette sulla vittoria alle primarie di Genova del candidato Vendoliano sulla sconfitta del PD e rilancia l'idea di una lista civica nazionale anche alleata a confini. D'altronde la sintonia con il leader di Futuro e Libertà si è vista giorni fa quando Emiliano da Bari è giunto a Lecce per salutare e soprattutto ascoltare le parole del presidente della Camera in prima fila e poco più in là Adriana Polibortone. Le liti tra posto e comunisti sono state terribili, continua poi Emiliano, come è accaduto a Genova. La conseguenza è che abbiamo diviso una forza che se unita avrebbe vinto. Non ha vinto un partito, bensì una domanda di rinnovamento. Doria è il risultato della sobrietà, del rigore intellettuale, della capacità di ascolto, della civiltà del dialogo, dell'investigazione sociale. Si può rimanere sorpresi se le persone decidono di farsi amministrare da chi è portatore di queste caratteristiche. Così interpreta la vicenda il presidente Nicchi Vendola che sottolinea come in politica l'avvitamento verticistico, a volte allontana dalla realtà e porta a guardare all'ombelico del partito. Genova è una città fiera delle sue tradizioni, continua della sua democrazia, ma chiede un ricambio. Ora la cosa migliore è partire dall'idea di buon governo propugnata da Doria, dal suo pensiero lungo sul modello sociale urbano, dalla fine dell'espansione del cemento e dalla cura delle ferite che ci sono aperte negli anni. E la vittoria di Doria è riuscita a stimolare anche il sacerdote che fa politica, Don Andrea Gallo, genovese, fondatore della comunità di San Benedetto al Porto, che non nasconde l'entusiasmo per la vittoria del candidato indipendente.